15 aprile 1978, a un mese dal rapimento di Viafani, arriva il comunicato numero 6 delle BR, diffuso a Torino, Genova, Milano e Roma. Il volantino annuncia che il processo popolare è finito e che il leader della democrazia cristiana, Aldo Moro, è stato condannato a morte. Moretti, la strage era veramente inevitabile? Assolutamente sì, nel contesto del fatto che avevamo deciso di prendere Moro e quindi la scorta andava neutralizzata e non c'era altro modo che quello.